Musica Ciao a tutti ragazzi, sono Lightning e bentornati in questo nuovo episodio di Kirby E' la terra perduta Oggi mi sa proprio che andremo ad affrontare un nuovo boss All'interno del parco giochi, o chiamatelo come volete Ma prima ci resta da fare circuito rapido In realtà no, penso che poi abbiamo un altro livello Non lo so, lo scopriremo presto In ogni caso fatemi sapere sempre sotto nei commenti Se state giocando a Kirby, se non vi piace, se lo prenderete oppure no Vi invito a lasciare o mi piace per sostanare tutti i miei video Iscrivetevi al canale e attivate anche la campanella Se vi va, seguitemi anche sui social Allora Intanto sono senza power up e questa cosa non va bene Oh, qui c'è la cota, scusate Ma, eh Permesso? Io ho premura Cioè, mi pare che io aspetto Posso trasformarmi anche in un'altra macchina Questa cosa è figa Cioè, non la sapevo Cioè, ok, la macchina è sempre la stessa Però dici C'è proprio un circuito Adoro Adoro Va bene Oddio, devo fare proprio la gara? No, no, davvero Via! L'esperienza di Mario Kart finalmente mi sta servendo Qua sicuramente ci sarà qualche obiettivo nascosto Sicuro, per lo senso Oh Ah, c'è il coso, non l'avevo visto Ragazzi, Mario Kart Spostati proprio No, ho sbagliato a prendere quella moneta Aia Bellissimo Vi giuro, ragazzi Sto amando alla follia questo gioco No, no 25 25 Brutto come risultato Molto, molto brutto Ah, non ho preso il primo premio No, voglio riprovare io Allora, ok Possiamo anche riprovare Cioè, vi pare che non prenda il primo premio Vi pare che non prenda il primo premio in questo livello? Ma, vi pare? Intanto il budino me lo prendo Grazie, grazie Ma, secondo me, al primo premio ci sarà un Waddle D Quindi Rifacciamolo Assolutamente Non ho paura Cioè, dai Dopo tutte le ore di gioco su Mario Kart? No Non lo accetto Allora, devo solo stare attenta al catrame, in realtà Sono prontissima Vai Gira Oh, lo manco sempre a quello, vai Catrame 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 Gira Vai Uh Ok No, catrame no Salta Vai Oh yes Oh yes 22 Ve l'ho detto che facevo meglio E c'era il Waddle D Ragazzi, raga Meno male che l'ho rifatto Se no Povero Waddle D Vieni piccolino, ti vengo a salvare subito Vieni da mammina Ok, prima Waddle D salvato Bene Adesso mi prendo le bombe Perché non ho il power up Quindi mi accontento delle bombe Che abbiamo anche potenziato Quindi facciamo esplodere un po' Di roba in giro Le bombe puzzolenti Cosa sono? Bombe puzzolenti? Penso di sì Avvelenate Che sono? Ehi 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 Oh, finalmente Allora, scusate Ma Ci sono prima io Ok Non c'è altro Proviamo ad entrare Non abbiamo ancora sbloccato Delle missioni nascoste Ma Sento proprio che una Era nella pista Che abbiamo fatto Tipo prendi Tutti Sconfiggi tutti Tutti nemici Una cosa del genere Non lo so, raga Ho questo presentimento Aia Ho questo presentimento Vediamo cosa c'è qui Ah, no, no, no Ho perso il power up Allora, qui c'è un bel gelatino Mmm Non c'è nulla Vai, 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 vai Butta giù Ok L'abbiamo proprio assagrato Poverino, ragazzi Mi ha fatto una tenerezza infinita Quel porco spino Ok Collezionabile Me ne mancano davvero pochi Ragazzi Sto finendo i collezionabili Così a caso Ancora sono Penso che per finire il gioco Ci vuole un bel po' di tempo Allora Lì c'è una cosa con il pulsante Vai Ma stavo cadendo Oddio Non mi sono accorta Che stavo cadendo giù Oh Ma che fai? Non le lanci? Vabbè Facciamo alla vecchia maniera Ok Abbiamo sbloccato Una zona segreta Ma no Sono caduta Ho dei problemi Dovrei indossare gli occhiali Secondo me Raga Allora Qui non c'è niente Andiamo Provo a salire Ormai salgo ovunque Dopo aver fatto l'obiettivo Di salire Sopra la statua Che non pensavo minimamente Potesse essere possibile Comunque Allora Facciamo questa E poi Andiamo avanti Oddio C'è il tizzo con le pistole Quasi 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 Mi prendo quel power up Perché Non mi trovo Cioè le bombe Sì va bene Mi piacciono Però Le pistole sono meglio Le pistole Sono meglio Anche perché Le ho potenziate Quindi mi trovo davvero bene Vedete Wow Cioè potenziato E' fighissimo Questo Questo power up Uno dei miei preferiti Attualmente Ragazzi Poi qualcuno Sotto nei commenti Mi ha scritto Ah che peccato Ci sono pochi power up Vi ricordo Che comunque Siamo ancora All'inizio E fino all'ultimo Sbloccheremo probabilmente cose E' normale Che ce ne sono pochi Adesso Ma magari Più avanti Diventeranno anche di più Allora Dobbiamo fare quel pulsante Vai Salta Ok No Non cadere Non cadere Vai vai No 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 Va bene Lo rifacciamo Vai Ok Salta Salta Ok No Ah c'è il Devo essere pure veloce Cioè Non bastava Devo essere pure veloce Vai 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 Eh dai ma Quanto ci Cioè ma sono stata abbastanza veloce Mi sembra di essere stata abbastanza veloce Vai No Troppo lento E' difficile Ah Ho capito Ho capito Sono scema Per essere più veloce Dovrei Utilizzare una bomba Esatto E Voilà Ok Secondo me si chiude il passaggio No al mare ho preso Allora la bomba non la voglio più Mi riprendo il power up delle pistole What Ah no ok Ho visto una luce Era easy Io mi stavo complicando la vita Allora qui cosa c'è Vediamo Lecca lecca Perché Ah avrei potuto Perché lecca lecca C'è questo power up qui adesso Per quale motivo Cioè non ha minimamente senso Non lo so perché ce l'ha messo adesso Ok questi non possiamo toccarli Ah Occhio Ah ci rivediamo Usando il bombon Invincibile Cos'è a caso Cioè Ho fatto un salto Perché aveva ancora il power up attivo Ed è morto E ho fatto pure la missione nascosta Ragazzi Non ho parole Allora c'è la spada Ma No Continuo senza Oh Licenza per la spada Oh Finalmente ragazzi Finalmente Cavolo Era l'unico power up Che non poteva ancora potenziare Ma finalmente Abbiamo sbloccato la ricetta Allora Prendiamo Il collezionabile Comunque Le altre missioni segrete Non le ho ancora sbloccate E questo È un problema Uh Attenzione Abbiamo un'altra gara Adoro fare le gare Allora intanto Vediamo se c'è roba qua Lì nei copertoni Probabilmente non c'è niente Quindi Devo fare Meno di 50 secondi Ok Ci proviamo E non devo cadere Probabilmente Allora Vai Prendi il limone Vai Sono super concentrata Non devo sbagliare Vai 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 Oddio Oddio Peggio di Mario Kart Raga Ok Vai Stiamo andando bene Ok Vai 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 Ok qua No il Makarons Non lo so Mi servirà qualcosa Non lo so Ho la sensazione Che il Makarons Potrebbe servirmi a qualcosa Vai Non so Più o meno Come siamo messi Con il tempo La ciambella La ciambella Ok vai 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 Oddio Salta Non veda Ok salta Vai 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 Oddio Un minuto Cioè No Non va bene Assolutamente In realtà Forse ho sbagliato A riprendere il Makarons Ma Ci riproviamo Ovviamente Assolutamente Potrebbe esserci sempre Uadul D Raga Non ho idea Anche perché lì Mi sa che abbiamo finito il livello Quindi Sì Ci potrebbe essere una missione segreta E Uadul D Nascosto Quindi Ci riproviamo Ci riproviamo Perché mi piace Mi piace tantissimo Questa cosa Bellissimo Vi giuro che È pieno di sorprese Questo gioco Dai minigiochi Alle sfide Ai livelli Ve lo consiglio Sto amando Alla follia Ok Kirby Riconcentriamoci Ok Scusate Cioè Faccio prima A fare così Non ci ho pensato prima Ho tagliato metà strada Perché devo fare il giro Quando posso Fare una cosa del genere Ecco Però Questo è un problema Vai Vai Salta 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 Cioè Scusate Ora tipo C'è il messaggio Vinci onestamente La La gara Eh Posso saltare Il gioco me lo consente Devo fare un ottimo record Io ci provo No Allora Vai 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 Salta 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 Ok Ce l'ho fatta Uh Uh Così proprio Ragazzi Guardate 4996 4996 E c'è I waddle d E niente Quindi ragazzi Se volete fare un record Deciente Dovete Scavalcare Ho perso Ho perso qualche Secondo lì Dove c'era la piattaforma Che girava Però Ci siamo Cavati Ah Me ne manca uno No Abbiamo perso Sono nascosti Troppo bene Questi benetti Waddle d Ragazzi Va bene Qui mi sembra Che non c'è Altro E va bene Andiamo a salvare I nostri amichetti Sono curiosa Di vedere Quali erano Le missioni nascoste Allora Ok Poi c'era Raggiungo il traguardo Della prima gara Entro 20 secondi E l'altra Secondo me È anche la gara Ok Questo mi mancava Yes Un collezionabile Che non avevo Questo mi mancava pure Yes Due che non avevo E Questo Non ce l'avevo Tre che non avevo Perfetto Perfetto Ottimo Siamo vicinissimi Così a completare la collezione Il prossimo livello Invece quale sarà Invasione Nelle Non ho letto Invasione Nelle Qualcosa Ok Delle sfide tesoro Perfetto Nella casa degli orrori Non mi piace questa cosa Non mi piace Per niente Decisamente No 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 Non ci voglio Non entro mai Nella casa degli orrori Nel Luna Park Ragazzi Già il fatto che Un tunnel Buio Io soffro No No Poi è dell'orrore No Io pure a Disney Andavo paura Quindi Allora Però dai Così non fa tanta paura Non Penso peggio Ah vabbè Non Devo sparare Ok Beh Questi si A questi si Vai via Allora Spariamo a questo Anche a questo What Cate la piattaforma Ok Questi sono i nano leaf Ce li ho attaccati Nella mia stanza Oh Tavola di cioccolato Mangiate i dolcetti Buona a sapersi Abbiamo sbloccato Un obiettivo Vediamo se questo Oh via Vediamo se questo Cosa si sblocca Coniglio malefico Pasqua si sta avvicinando Quindi stiamo vedendo Veramente tantissimi I conigli Ok Ci mancano pure i fantasmi Via Qua cosa c'è Waddle D Oh no Ho sbagliato C'era Waddle D Per avere La primura Di fare sempre Le stesse cose Abbiamo perso Il Waddle D Non so se Lo posso rifare Ma Un Waddle D È andato Era proprio easy Io ho sbagliato Perché Niente Dovrò comunque Rifare il livello Vabbè Tanto comunque Mi piace rifare i livelli Qui possiamo diventare Una bella lampadina Attenzione Abbiamo una nuova Trasformazione Vai Oddio Ma cos'è Bellissimo Adoro Vi illumina Salta Adoro Sto adorando Alla follia No vabbè Ragazzi È bellissima Ovviamente Se Faccio così Rallento Un bel po' Però Non ci Non ci sono altre strade Qua vediamo Dove ho un'occhiata in giro Perché qui ci sono un sacco Di cose nascoste Allora vai Oh Che dici Ti togli Vai Cosa c'è da questa parte Ok dolcino Da qua Non si può salire Vai Possiamo accendere la luce Vediamo No Uh E il pollo Me lo prendo Lì c'è un collezionabile Eh ma questo Questo coso Ecco esatto Stavo dicendo Come lo faccio uscire Vai Prendi Ok l'ho preso Così proprio Vai Allora Andiamo A sinistra Sì ma io Come lo scopo Ah se è al buio Lui non mi vede Sì stai buono Stai buono Eh sono in modalità Risparmio energetico Raga Perché Perché la luce costa cara Quindi le bollette Arrivano salate Anche a Kirby Quindi modalità Risparmio energetico Uh 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 Quanta roba qua Quanta roba No Sono caduta Stava andando Tutto bene Allora Qui sopra C'è qualcosa No Spengo la luce Oh weh Là sopra C'è qualcosa Secondo me Eh esatto Non si vedeva dal basso Ah oddio Un po' di luce No devo Ok Lì c'è un altro Waddle D Niente Mi tocca fare Questo power up Per fare sta cosa E Mo' come lo prendo Da qua Allora Vai Difficile Come faccio A farlo Arrivare lì Forse devo Aprire Devo aprire Sta porta È super Come prendere Questo Waddle D Forse Ok Forse ho capito Vediamo Cioè sto pensando A come farlo Arrivare lì Dai Forse Ci sta C'è quasi Vai Non riesco ad andare Più di così Questa è difficile Dai L'ho così No ok Non mi devo Allora vai 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 Non c'è io Proprio Allora Forse Ah forse ci sono Vai No nemmeno Un po' più vicino Devo farlo arrivare Un po' più vicino Dai Ma è difficile Ora No nemmeno Regà Hanno un'idea Non sto capendo Ah sapete perché Perché avrei dovuto Accendere prima la luce Secondo me Guardate Sono sicura Perché è impossibile Non Non c'è un altro modo Secondo me Prima doveva accendere Questa qui Cioè io mi cervello Inutilmente No Invece no Invece no Vabbè Regà Lo rifacciamo Tanto comunque Dovrò comunque Completare gli altri Livelli Vai 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 Allora lì c'è un Dolcetto Molto strano Mi è rimasto il dubbio Su come fare Regà Voi se avete fatto Quel pezzo Scrivete sotto Nei commenti Come avete preso Quel Wadul D Cosa c'è qui Cosa c'è da questa parte Cioè secondo me C'era qualcosa Da attivare Non so Perché Non passava Cavolo Ho perso Due Wadul D Sto livello Malissimo Proprio Sto livello Vabbè Vabbè Non è importanza Torneremo E rifaremo tutto Allora Qui mi conviene Lasciare Lasciare via Cioè sì Lasciamo giù la lampadina Ok Sono senza power up Però c'è il nostro amichetto Con il fuoco Che ci piace E Oddio Oddio Cos'è? È fake? Quindi una è speculare Ok Cioè non è speculare Nel senso Una è un tranello Ok Uh Ciao Via In realtà possiamo salvare anche Wadul D Cioè ce ne resterebbe un altro Vai Ok questa è stata giusta Quindi non è ancora finita Collezionabile Lì c'è un altro dolcetto Forse la missione dei dolcetti L'abbiamo fatta Vediamo Eh sì Ok Almeno Almeno questa È stata fatta Da questa parte Non c'è altro Mi pare di no Ancora un fantasma Oh ma siete seccanti Comunque dai Questa casa dell'orrore Non è che fa tanto paura Allora Vi dico subito Qual è quella giusta E qual è quella sbagliata Questa è quella giusta Ha Non mi freghi più Cosa c'è qui? Ah Però Forse qui c'è qualcosa Cioè l'unica volta Che prendo quella giusta Nella parete c'è qualcosa Eh L'avevo visto Che c'era il coso Delle bevande Oh sembra che tu possa risucchiare Questo grande giusto Senza rimuovere l'abilità Sì ma lo sapevo Perché me lo ridici adesso? Perché me lo sta dicendo adesso? Abbiamo 150 lattine Pou 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 Via Ciao 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 E' strano Cosa dobbiamo fare? Ah Finalmente posso Ucciderli Ok Vai Stiamo per niente Facendo tira al bersaglio Uno Due Tre Quattro Ci sarà una missione segreta Raga Ok vai 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 Guado il D Oddio Non l'avevo visto Eh Distruggisce Tredici alieni Sì sì Ok Perfetto Una missione segreta Almeno Questa l'abbiamo fatta Oh yes Ragazzi E anche questo livello Anche se Non benissimo E' stato completato Però dai Ho sbloccato le missioni Due missioni Che comunque Non sapevo Vediamo Quindi cosa ci manca Completa senza toccare I bombospini Fantatti I bomb Ah sì ok Non li ho toccati Va bene Nella mia cosa Le ho fatte Alla fine È praticamente L'unico livello Dove non ho salvato I guado il D Era perfetto Comunque Collezionabile Mi mancava E mi mancava Quindi l'importante È che mi mancano Perché sono davvero Tanto così A finire La collezione E mi sa Che siamo Arrivati Al boss No Non ancora Sfilata Da sogno Attenzione Non siamo ancora Arrivati al boss Quindi Ci tocca Fare una Bella Sfilata Abbiamo sbloccato Anche delle Altre sfide E volevo Vedere Se è possibile No non si può Vedere da questa parte Va bene In ogni caso Volevo vedere I collezionabili Ah ok Da qui si può Vedere Sono a 54 E sono 79 Quindi Alla fine Me ne mancano Davvero Pochi Va bene Abbiamo una Sfilata Da fare Non lo so Questo Questo livello Mi intriga Questo livello Mi sta intrigando Tantissimo Comunque Molto bello Questo Questo mondo Promossissimo Molto 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 Bello Ciao Addio Allora Entriamo C'è un pulsante Va bene Schiacciamolo Abbiamo acceso Le luci Bello Ah wow 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 Bello No Che bello Troppo troppo Bello Allora Oh oh Allora Qui cosa c'è Ah il treno Ovviamente Devo un attimo Stare attenta Se no Mi schiacciano Ah no Di nuovo le papere Facciamo una cosa Mi prendo la spada La sto usando davvero poco Ultimamente E posso anche potenziarla Allora Intendo Paperelle Venite con me Ci mangiamo anche Popcorn Vieni Vieni Non ti spaventare Paperella Sei al sicuro Com'è Qui c'è la terza Fate attenzione State attenti Quando attraversate Sembra tipo La mamma Che vi fa attraversare E Dice Oh attento Oddio Chi è quello che dorme Eh Aia Io penso Dove è il mio amico Invece Invece sei cattivo Vergognati Aia Lascio stare Le mie paperelle Allora Qua cosa c'è Cosa c'è Ecco Vai Stai Giù Il biberon Il biberon Perché Siete arrivate Dalla Dalla mamma Paperelle Siete cinque Oh Meno male Vediamo cosa c'è qua sopra No No Power up Sto cadendo No Sono io che sto cadendo Nel power up Però penso che posso tornare anche giù Non lo so ragazzi Mi sa che ormai A questo punto Non posso tornare giù E Quindi Ho Cioè Avrei Vabbè Dettagli Mi sa che mi ho perso Waddle D Per salvare le paperelle Cioè Ho questa sensazione Che è sto coso Via Ciao Non mi fare cadere nel fango Mi sporco i piedini Mi da Questo Come power up E vabbè Me lo prendo Non si sa mai Per Dove Servirci Per fare qualcosa In particolare Ok Il gelato Buono Grazie E apprezzo Non si rifiuta mai Il gelato offerto Ok Vabbè Effettivamente Senza questo Power up Attraversare la zona Non è Non è proprio semplice Allora Lì c'è una porta Ma come ci arriva La porta Intanto saliamo Quindi aspettate Lì c'è un'altra porta Vai Ok Scendi giù 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 Ok Porta nascosta E No C'è un'altra C'è un'altra gara Da fare Intanto c'è No Non cadere C'è una cosa Da rompere qua Vediamo Ok Abbiamo tipo Sbloccato una scorciatoia Per barare Vai Per fare 5 secondi Praticamente Ok È stato bello Breve ma intenso Breve ma intensa Quindi occhio Senza fare questa cosa Impossibile E abbiamo perso Waddle D Come vi dicevo Però va bene Mi piace questa cosa Delle sfide Vorrei proprio un minigioco Dedicato a questa cosa Va bene Possiamo continuare Andiamo giù La c'è Waddle D C'è Waddle D Waddle D Waddle D Waddle D Oh mamma mia Ragazzi Non si faceva così Non potevamo prenderlo E si va giù C'è il talpone Talpone Mi stai dicendo Che mi serve Il tuo power up Ma me lo prendo Non si sa mai Va bene Andiamo No C'è il poster Maledetto poster No di nuovo No regà Oddio Maledetto poster Mi ha fregato di nuovo Regà C'era un poster Attaccato lì Li odio Questi poster L'ho visto L'ho visto Quando era troppo tardi Vi odio poster Vi odio tantissimo Regà Era lì Era là sopra Mi ha fregato di nuovo Mannaggia Al poster Mannaggia Cioè era lì Sotto al naso Allora Facciamo questo pezzo Quindi Non mi sembra Di vedere Wadul D Il coniglio Ma Aia Ci mancava pure Il coniglio Lì c'è la cosa Con l'acqua Quindi Quindi Cosa succede? La proteggono Sti due Cosi? Ha Sciocchini Ma cosa volete fare Sciocchini Allora Divento di nuovo Un balloncino Oh Non investite il balloncino Per favore Qui abbiamo Dei problemi Riesce a passare Kirby Non penso Sì Riesce a passare Kirby Nonostante È bella È bella gonfia Riesce comunque A passare Aia Allora Cosa c'è qua? Devo riempirmi Di nuovo Perché ho finito L'acqua Ma se io lancio L'acqua Cosa succede? Si distrugge Ok Ovviamente Questa cosa Non si può distruggere Vai 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 Cioè scusate Non capisco Il senso Allora Cioè Non capisco Il senso Di aver usato L'acqua Non mi sembra Che Non lo so Non mi piace Per niente Questa cosa Oddio No ok Pensavo di poter fare Un po' di danni Tanto sto morendo Oh oh Un pulsante No Sono pure caduta giù Ok Andiamo Guardo lì Ok Cosa Non si fa Per salvare Waddle D Però sotto C'è qualcos'altro Che dobbiamo fare Sotto Dove sono? Ok Là c'è lo sciroppo Mi serve Devo riprendere Un po' di vita Sto proprio morendo Cosa Cosa c'è Questa Ah no Questa Ah qui si finisce Il livello E vabbè Ormai è andata così Non ho capito Perché l'acqua Se poi non l'ho usata Cioè C'era qualcosa Che ci mancava Non abbiamo fatto qualcosa In questo livello Vediamo Rimuovi il poster Ricercato Maledetto Poster Maledetto Che questo mi mancava Niente Sto a sto livello Male 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 Però Mi sa che abbiamo Sbloccato Il boss Ci vogliono 21 Waddle D Vai Pericolo Sotto la tenda Da circo Non lo so Sembra tosta Questa qua Col boss Va bene Comprate livello Ah già così Subito Beh il pomodoro Mi serve Mi serve sì Dobbiamo scegliere Il power up Pistola Spada O Bomba Dire pistola Perché non sappiamo Contro ci Contro chi ci sfidiamo Quindi direi Che con la pistola Andiamo un po' Al sicuro Mi sa proprio di sì Anche perché la spada Non è nemmeno potenziata Quindi Vediamo Ok ci siamo Salve La disturbo Chi è? Dragula? Oddio Green fiolina Ma Oddio Signora Si tagli le unghie Aiuta Signora Ma lei non ci va Dall'estetista L'ha mai visto Guinness world record? C'è una signora Con le unghie Come le sue Però Le sue sono meglio Ma non le danno fastidio Quando non so Mangia Si lava La faccia Gli occhi Non lo so No Non danno fastidio È tosta Forse la spada Non era malaccia Eh io Gliel'ho detto Di tagliarsi le unghie Poi Vai eh La carichiamo Vai Aiuto Mi taglia Mi taglia Mi taglia Io sono Sono Amarpidosa Mi fa fettine Ragazzi Allora Allora Sicuramente ci sarà Come missione Di finire il boss Entro un tot di tempo Però Va bene Non fa niente Tanto Poi in caso Lo rifaccio Allora Ricarico Ricarico Vai Non gli ho fatto niente Di danno Oddio Si è arrabbiata Addirittura Eh signorina Stia calma Stia calma Oddio Che lancia I coltelli Lei è un po' Troppo fissata Con le cose affilate Oh Ah se io assorbo No Non volevo Il coltello No La spada Lei è un po' Troppo fissata Per i miei Uh Oddio Stiamo morendo Allora qui Ok Poi si incastra le unghie Vai Ok Raga Abbiamo fatto anche la missione Di colpirla Mentre era in alto Vai Ci siamo quasi Uno Due Tre Quattro Occhio Dov'è Dov'è sparita Oddio Un coso di Lui Un coso di Non si può sentire Mi prende in giro Che fai Vuole fare Anche la strega Ok vai 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 No 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 Kirby 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 Dobbiamo stare attenti Perché sto per morire Nooo Perché si mette a sparare Oh mamma mia Si mette a sparare Quando non deve sparare Vai È la nostra occasione Vai L'avrei fatta fuori Centomila volte Se non sbagliavo Aiuto Aiuto Mi vuole fare fettine Questa Maleducata Maleducata Aiuto Kirby Aiuto Signorina Si calmi Signorina Vai Oh mio dio Ma sempre così Raga Con una sputazzata Di vita Ah Waddle D Mi siete fatti Di catturare Da questa tizia Con le unghie lunghe Vediamo Cosa possiamo potenziare Adesso La trivella Ottimo Oh yes Allora Abbiamo fatto Credo due missioni Soltanto Quindi Le altre Sicuramente Nel tempo Perché come Con il boss Sicuramente Mettono il tempo Vediamo Green fiolina Completa Senza volare È difficile Senza volare Raga Però ci riproveremo Ok Mi sa che abbiamo Sbroccato Un nuovo mondo Vediamo Si tolgono Le nuvole Uh Sta succedendo qualcosa Nella città De Waddle D Il colosseo Ho fatto lo screenshot Vabbè Oddio La città di Waddle D Si è ingrandita Tantissimo Ci sono altre Collezioni No Io Era disponibile Il distributore Di sorprese Volume 2 Ero Confinta Che le stavo Per finire È Una truffa Questa è una truffa Ora Il colosseum Può essere usato Per le battaglie Combatti contro i boss E rivali Già affrontati In passato E ottieni Delle splendide Ricompense Quindi contro Boss E rivali Già affrontati In passato Oddio Chi è Oh mio dio Oh mio dio Ragazzi Ci sono Anche Dei vecchi Personaggi Di Kirby Ora puoi far evolvere L'abilità Spada Ok Questo Lo sapevo Già Non proveremo Adesso Il colosseo Ma magari Nel prossimo Episodio Lo proveremo Ragazzi Non me l'aspettavo In ogni caso Come al solito Vi invito a lasciare un mi piace Iscrivetevi al canale Attivate la campanella E ci vediamo In un prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti